Ciao a tutti gli amici di Oram, siamo qui con Sinagagiri Benvenuto nella mia città, oggi siamo a Vicenza, ci troviamo da Dainese Siamo qui perché, caro Sin, abbiamo un prodotto da svelare che interessa a te come a tutti i motociclisti che cercano la sicurezza Quindi entriamo e vediamo di cosa si tratta Let's go! Andiamo! Eccoci Sin, abbiamo trovato il prodotto misterioso Hai capito cos'è? Questa qui è la Dainese Smart Jacket Hai letto? Si tratta di un gilet con sistema airbag integrato che non ha nessun tipo, vedete non c'è trucco, non c'inganno nessun tipo di collegamento fisico con la moto né di centralina a bordo e che permette di proteggere il rider con un sacco airbag che si gonfia nella zona anteriore e nella zona posteriore Mi sa che ti facciamo fare da manichino L'attivazione è estremamente semplice Anzi, Dennis inadvertitamente prima aveva già attivato il gilet Facciamo vedere che basta chiudere questo bottone Ed è pronto a salire in sella E pensate che la Smart Jacket in questo momento sta analizzando mille volte al secondo Quella che è la situazione di Dennis Quindi ovviamente in questo momento non è in sella, non sta andando in moto In caso di incidente è in grado in tempi estremamente ridotti di provocare lo scoppio del sacco airbag Ma la cosa interessante di Smart Jacket è che può essere indossata sotto il nostro abbigliamento da moto O sopra, normalmente rimane spazio sufficiente per la completa attivazione del sacco airbag Visto che ci stai facendo da modello per un giorno, come ti sembra? È molto leggero, sembra quasi un gilet tecnico da montagna L'unica cosa che mi dispiace è che adesso dovrò rimetterla nel manichino Non ti preoccupare perché appena arriverà nello showroom Oram Sarà nostra premura a fartelo sapere il prima possibile Quindi adesso questa la devi andare a mettere a posto Grazie di averci ospitato qui a Vicenza Grazie ovviamente a Dainese che ci ha fatto entrare nella sua sede qui a Vicenza È stato un piacere venire a te a trovare Grazie per essere venuti a trovarmi qui a Vicenza Prossima volta sarai tu a venire da noi E mi raccomando non vi dimenticate come sempre di iscrivervi al canale di Sinna Se non l'avete già fatto ma è molto difficile Al canale di Oram Appuntamento al prossimo video Da Oram e da Sinna Ciao e always riding Grazie a tutti